L'angelo, sepolcro vuoto, angelo che interpreta il sepolcro vuoto e anticipa l'interpretazione delle parole di Gesù, però è l'angelo che dice, guardate che risorto, come aveva detto. Quindi c'è il richiamo a ciò che Gesù aveva detto e le donne lo seguivano, capitolo 8 di Luca. Ci sono diverse donne che con i loro beni assistevano Gesù e i suoi discepoli. Queste due donne appartengono a quel gruppo, che lo seguivano sempre, quindi loro avevano sentito tutte le volte che Gesù aveva profetizzato la sua morte e insieme alla sua morte anche la sua risurrezione. Voi dite, beh sì, conosciamo le tre profezie della passione e risurrezione. quelle sono elaborazioni tardive su un nucleo storico originale, ma noi abbiamo altri momenti in cui Gesù parla della sua risurrezione. Lo vedremo in altra sede. Allora Gesù disse loro e qui andate la linea 74. Quel riquadro, se notate, riporta le stesse parole dell'angelo. A sinistra avete l'angelo, a destra avete le parole di Gesù. In italiano purtroppo hanno tradotto voi non abbiate paura. Quel voi è enfatico perché mette in rapporto voi donne con loro guardie tramortite. Loro sono piene di paura tramortite, voi cercate di non avere paura, se no rimanete tramortite anche voi. Quel voi ha questo valore. Ma se notate, quel non abbiate paura è lo stesso di non temete. Guardate il greco. Notate che è lo stesso verbo? Mefodeize. E non si capisce perché in italiano da una parte traducono non abbiate paura e dall'altro non temete. È lo stesso verbo, traducilo la stessa maniera. Andate a dire ai suoi discepoli, andate ad annunciare ai miei fratelli. Da una parte questi traditori vengono chiamati discepoli lo stesso, Gesù addirittura li chiama a del foi fratelli. Capite che di fronte a questa espressione noi abbiamo un Gesù che non ha rancore. Ha già perdonato tutto. Se le cose stanno così, capite quanto sciocchino sia dire che Gesù a Pietro gli chiede tre volte mi ami tu perché ripari alla triplice rimegazione. No, non è quello. Non è quello. Non c'è nessun rapporto fra il Gesù post-Pasquale e il Gesù pre-Pasquale tradito. Lui li chiama fratelli, punto, chiuso, non c'è altro. È interessante perché questo testo è stato studiato moltissimo ed è stato messo in parallelo con l'atteggiamento di Giuseppe nel libro della Genesi. Quando lui diventa vicere, i suoi fratelli hanno bisogno di lui. L'atteggiamento è lo stesso. nessuna vendetta. Perché non c'era ancora. Non c'è rabbia. Non c'è niente da far pagare a nessuno. Quello che volevo farvi notare è che ciò che nell'angelo, le parole dell'angelo, sono semplicemente parole esplicative. Voi non abbiate paura. Gesù, non temete. Angelo, so che cercate Gesù il crucifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite a guardare il luogo dove era stato deposto. Poi c'è. Andate a dire ai suoi discepoli. È risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Tutte le parole che sono in bocca all'angelo sono parole di spiegazione. Il messaggio però è lo stesso. Il che vuol dire che questo angelo ha premura di chiarire che ciò che loro sperimenteranno dopo, potrebbe essere equivoco senza spiegazioni. E allora dice, ciò che vedrete dopo è il risorto. Quando lui dirà, andate a dire ai miei discepoli che mi vedranno in Galilea, cosa sta a dire? E l'angelo spiega. Dice, lui resta il crucifisso. Guardate che lui aveva previsto tutto. Se tornate con la memoria, lui aveva previsto la sua morte, aveva previsto la sua ressurrezione. Non solo, ma coloro che lui aveva scelto come discepoli restano tali, nonostante i loro peccati. Questa sarà una delle cose che noi dovremmo affrontare quando faremo il Vangelo di Giovanni, la successione degli avvenimenti. Perché notate che per Matteo non esistono apparizioni a Gerusalemme per i discepoli. L'unica apparizione ai discepoli è sul monte. Non dite tabor perché vi faccio una doccia gelata. Ve lo dico e ve lo ripeto. Le identificazioni bizantine sono tutte sbagliate. quando andate in Palestina, chiedete sempre se questa è un'identificazione pre-bizantina o bizantina. Se pre-bizantina è giusta, se bizantina è sbagliata. Perché i bizantini sono arrivati e la prima cosa che hanno visto di bello hanno detto il tabor. No, ma che ne sai tu? Non è scritto da nessuna parte. Chiaro? Quando io ho portato i miei amici al Sinai, a Santa Caterina del Sinai, prima li ho fatti salire, poi quando siamo arrivati su ho detto guardate che questo non è. Mi avrebbero impiccato. perché la guida ci ha fatto alzare all'una e mezza di notte, abbiamo fatto su la salita tutta di notte in modo da essere la sua alle cinque e vedere il sorgere del sole, che è uno spettacolo unico. Ma per questi poveri diavoli sentirsi dire no, guarda che questo non è il Sinai, è stato uno shock anafilattico. guardate come finisce l'angelo ecco io ve l'ho detto quel ecco io ve l'ho detto è tipico del mondo sapienziale non del mondo profetico. Il mondo sapienziale quando spiega qualche cosa di difficile conclude dicendo ecco io ve l'ho detto cioè tenete presente che quando avete qualche dubbio rifatevi a quello che io vi ho spiegato ecco io ve l'ho detto a questo significato nel dubbio ritornate alle mie parole. Quando Gesù dunque incontra le donne non ha niente da spiegare semplicemente dice quello che deve dire ma l'angelo aveva già dato la chiave di lettura. Mentre avviene questo episodio tra Gesù e le donne avviene un altro episodio il che vuol dire che mentre le donne parlano con l'angelo le guardie scappano. Queste guardie giunsero in città parlano i sommi sacerdoti i quali trovano ovviamente la soluzione con una buona somma di denaro. Ora tenete presente alla linea 82 che questi preti sono abituati a questa mentalità. I capi dei sacerdoti dice Matteo 26,14 danno 30 monete d'argento a Giuda i capi dei sacerdoti e anche qui alla linea 77 laggiù sulla destra trovate i capi dei sacerdoti i quali danno una buona somma di denaro. Adesso capite perché Gesù li chiama commedianti ipocritai ipocritai non vuol dire bugiardi vuol dire coloro che recitano commedianti perché i sommo sacerdoti sarebbero i custodi della legge dell'alleanza e uno degli elementi fondamentali dell'alleanza è la hemet oltre che alla geset la geset è la fedeltà la hemet è la trasparenza e qui i sacerdoti sono esattamente il contrario della trasparenza per questo Gesù li chiama naturalmente quando noi leggiamo andiamo via veloci i capi dei sacerdoti ma che ce ne importa no quando lui Matteo scrive capi dei sacerdoti e ti mette tre capitoli prima capi dei sacerdoti metti insieme e vedi che hanno la stessa caratteristica corruzione da una parte corruzione dall'altra denaro da una parte denaro dall'altra Gesù dirà che il vero nemico di Dio non è il demonio non potete servire due padroni o Dio ma Monà è meglio e ma Monà è il potere il denaro anche la cultura quando è esercitata come potere bene questi si riuniscono e dicono i suoi discepoli sono venuti di notte l'hanno rubato mentre noi dormivamo già Agostino faceva l'ironia dicendo ma se dormivate come fate a sapere che erano i discepoli a rubare va bene tenete però presente questo dato la legge militare romana prescrive la pena di morte per chi dorme durante il turno di Sentinella quindi i guai erano molti per questo loro dicono interverremo noi presso il governatore perché era il governatore che doveva dare la sentenza di morte nessun altro poteva emettere una sentenza di morte nei territori occupati solo il governatore e loro giustamente dicono interverremo noi è lo stile ovvio bene quelli presero il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute questo logos voi notate la differenza qui tra il logos dell'angelo alle donne di Gesù alle donne e il logos dei sacerdoti ai soldati dei soldati al popolo logos tutti due ma una è una parola di resurrezione e l'altra è una parola di imbroglio sono i due logoi messi in comparazione veniamo all'ultima fase in tre minuti non riusciamo ma non importa linea 87 e 88 nella linea 88 soprattutto vedete due verbi questi due verbi prostrarono e dubitarono convivono perché nel testo greco è proprio così quando lo videro fecero l'atto di adorazione e contemporaneamente avevano dei dubbi questa è la fede la fede tetragona quella che non ha mai un dubbio c'è il grosso pericolo che sia un'ideologia e no una fede la fede ha bisogno di camminare di approfondirsi di approfondirsi di allargarsi e il dubbio è la spinta ad approfondire ad allargare la fede se non c'è il dubbio non c'è la crescita certamente il dubbio può essere adoperato in maniera sbagliata perché quando il dubbio diventa corrosione allora non ha più la sua funzione qualcuno dice linea 96 e dista Zhang sarebbe un auristo quindi è un fatto puntuale hanno dubitato per poco si fermati ma allora anche alla linea 95 Prosecchina e Zhang è un auristo è un fatto puntuale hanno adorato per poco non è un ragionamento che tiene e invece c'è una constatazione che la fede può essere benissimo accompagnata dai punti di domanda però fede è e fede resta nonostante i punti di domanda fatto sta che Gesù a questo tipo di persone dà il mandato andate e fate discepoli tutti i popoli questo mandato se notate va scomposto il primo non è andate perché guardate la linea 98 non è un imperativo è un participio andanti noi traduciamo come il gerundio andando andando fate discepoli dunque l'atteggiamento del l'apostolo è quello di essere sempre in movimento non sta in canonica aspettando che la gente arrivi esce dalla canonica e va incontro alla gente questo è l'apostolo perché la sua caratteristica è andante e mentre va allora fa discepoli di Gesù tutte le genti non sue discepoli le genti non devono diventare discepoli dell'apostolo ma devono diventare discepoli di Cristo chiara la differenza? ecco qui avete in mano una chiave per leggere anche i fenomeni socio-religiosi di oggi cristianesimo autentico è quello che prende le persone e le fa diventare discepoli del maestro non discepoli di chi predica seconda caratteristica come si fa a far diventare queste persone discepoli attraverso due strade l'esperienza sacramentale battezzando poi guardate bene la linea 101 il greco didaskontes didasko vuol dire insegnare non vuol dire far fare esperienza oggi c'è un equivoco bel equivoco anche se volete positivo per certi aspetti al bambino bisogna far fare esperienza di fede va benissimo però il testo biblico dice didasco e didasco vuol dire insegnare qui quindi va benissimo l'esperienza di fede l'esperienza di fede rientra nell'ambito della sacra mentalità perché tenete presente che i sacramenti sono sette ma l'ambito della sacramentalità è tutto nel momento in cui voi fate la carezza alla persona a cui volete bene quello è un segno che manifesta l'affetto che cos'è il sacramento? un segno della grazia quindi la sacra mentalità è molto più ampia dei puri sette sacramenti e quindi l'esperienza che si fa fare al bambino rientra nell'ambito della sacra mentalità ma il didasco? voi andate a vedere un museo mancano le didascalie non sapete cosa state vedendo il didasco è l'insegnamento e nella chiesa l'insegnamento è sempre stato duro non si diventa cristiani se non c'è il catecumenato nel catecumenato ci sono i riti siamo nell'ambito della sacramentalità ma c'è anche l'apprendimento perché c'è la redizio il vescovo ti dà il credo tu lo devi sapere il vescovo ti dà il padre nostro lo devi sapere il vescovo ti dà i dieci comandamenti li devi sapere sì oggi abbiamo dimenticato questo dunque si diventa discepoli attraverso le due cose esperienza sacramentale ed esperienza di apprendimento Pietro dirà che noi dobbiamo essere sempre pronti a rispondere a chiunque ci chiede la ragione della speranza che c'è in noi voi siete pronti a fare i vostri cattivo? non vi ho detto fate bene fate male non ho dato giudizio ho detto sono a fare i vostri come chiude il Vangelo il Vangelo chiude ecco io sono con voi tutti i giorni e noi diciamo che bella compagnia no di più perché se voi mettete insieme la finale del Vangelo di Marco con la finale del Vangelo di Matteo notate l'equivalenza nel Vangelo di Marco si dice che la sua vicinanza è operativa non è la vicinanza del gatto che fa le fusa e ti fa le carezzine è una vicinanza operativa perché Dio accompagnava la parola con i segni questa è la vicinanza cioè è una vicinanza esperimentabile non è una vicinanza psicoaffettiva o almeno psicoaffettiva soltanto è operativa perché la spiegazione la trovate in quel pezzettino di ebraico che è la traduzione del greco il greco è tradotto in prima persona singolare l'ebraico è alla terza ego metimon emin io sono con voi mentre in ebraico trovate scritto imma imma con noi è il Dio Dio con noi è l'attedempimento della profezia di Isaia 7 14 quindi Matteo si chiude dicendo non c'è solo la profezia di Gesù sulla sua morte e resurrezione ma c'è anche tutto l'antico testamento che in lui si avrempie cucù di Lida sì all'85 dopo Cristo no nessun ebreo dice più questa monnata i più grossi esegeti ebrei che conoscono la storicità di Gesù più di qualche cattolico non dicono più sta roba qua dicono è un assurdo è il classico atteggiamento polemico che gli ebrei hanno avuto alla fine del primo secolo tutto lì sono contingenze storiche chiuse nel tempo oggi gli ebrei hanno una fede talmudica non biblica l'abbiamo sempre detto dicono che la fede di Gesù ci unisce e la fede in Gesù ci divide come in che senso l'avvenimento loro dicono che si può interpretare in un altro modo quale modo non lo dicono i greci dissero a Paolo quando Paolo ha finito all'areopago il suo discorso ti ascolteremo un'altra volta grazie grazie grazie